La leggenda del Tredesin de Mars. Nel 51 d.C. arriva a Milano un cipriota di nome Barnaba, inviato da San Paolo di Tarso per predicare i Vangeli nell'Occidente. Barnaba era un gran bell'uomo, alto, con una lunga chioma e la voce potente, sì da ricordare ai pagani di allora la figura di Giove. Quest'uomo, di grande carisma, entra in Milano da porta orientale, ma prima di entrarvi pianta il suo bastone a croce in una pietra ai piedi di una grossa quercia e si raccoglie in preghiera. Il 13 di marzo, per i pagani, è l'inizio della primavera. La leggenda racconta che, al suo passare, per le strade di Milano, le statue dedicate agli dei pagani cadessero, i templi si inclinassero e anche le vestali, forse perché era un uomo traente, trovassero un certo turbamento. Cominciò la sua opera di predicatore e i proseliti crebbero a centinaia. Le autorità romane, probabilmente per la sua eloquenza e la sua personalità, non lo perseguirono. Morì lapidato dagli ebrei in quel di Cipro, dopo che ebbe conclusa la sua missione milanese. La sua tomba fu ritrovata a molti anni di distanza e, apertala, apparve un Barnaba dal corpo intatto, in atteggiamento da predicatore e con il testo di San Matteo sul petto. Milano ebbe diversi protomartiri, ma Barnaba colpì in modo particolare questo popolo e, sul luogo in cui il santo piantò il suo bastone a croce, venne retta una cappella dedicata a San Salvatore, dove per molti anni i milanesi, ogni 13 di marzo, erano soliti portare ceri e fiori. Attorno alla cappella fu costruita la chiesa di San Dionigi, poi demolita nel 1783. Ora, al suo posto, vi è il planetario. Le reliquie e la pietra in cui venne conficcato il bastone si trovano tuttora conservate nella chiesa di Santa Maria del Paradiso, a Porta Vigentina. Lì nacque la festa del 13 di marzo, con esposizione e vendita di fiori, successivamente trasferita in Piazza del Duomo e ancora oggi conosciuta come la ricorrenza del tredesino di marzo.